Una seguitissima puntata di Sveglia Trieste questa mattina ha visto protagonista il direttore di Telequattro Luigi Bacialli che dalle 7 e mezza alle 10 e mezza ha risposto a tutte le domande arrivate dai telespettatori. Gli argomenti sono stati molti e decisamente incentrati sull'ambiente triestino spaziando dalla ferriera all'emergenza e immigrazione passando poi alle storie di povertà di cui anche Telequattro si è occupata per toccare gli indipendentisti, le crociere e i rimandi storici degli esili striani fiumani e dalmati. Un appunto anche sull'attualità, sui fatti di cronaca attuale come ad esempio la polemica del Natale laico in certe scuole ma anche la moschea in via Maiolica a Trieste. Su questo tema il direttore ha dato una puntuale risposta. Cosa si fa con questa moschea di via Maiolica adesso? Che soluzioni abbiamo? Dobbiamo tenercele a fatto compiuto? Sulla moschea l'unica cosa che si può fare è esercitare una forte pressione sul sindaco Cosolini e sulla giunta perché rivedano queste decisioni. Queste sono decisioni calate dall'alto, dare il via ad una moschea in una città come Trieste non è una decisione poco impegnativa, è una decisione rilevante, incide sul tessuto di una grande città come questa. Quindi si può manifestare, si può protestare, si possono raccogliere firme. È chiaro che poi al di là di questo i cittadini sudditi purtroppo, il cosiddetto popolo sovrano che nemmeno può mandare i parlamentari che vuole alla Camera e al Senato, oltretutto adesso nel Senato non c'è più, ce ne sarà un altro, ci saranno consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, sindaci, insomma un altro pasticcio sta di fatto che poi la libertà di scegliersi proprio i parlamentari è andata a farsi benedire da tempo. Neanche gli esegni tre premi sono stati scelti dal popolo. No esatto, abbiamo anche i primi ministri che non vengono neanche eletti, quindi siamo in un paese fintamente democratico. Resta la forza di una popolazione, di una comunità che può dire, oh ragazzi datevi una mossa, fate questo, non fate quest'altro e poi ovviamente c'è l'arma, almeno nelle amministrative c'è l'arma del voto. Quando uno si stufa di un'amministrazione comunale, non dico questa, dico quelle di prima o quelle ancora di prima o quelle che verranno, si vota per un cambio radicale. Questo può fare un elettore se non altro nei comuni, altre cose non può fare.